Allora, il boom dei mutui per la casa, mentre i consumatori contestano i dati dell'ABI, soprattutto sui mutui delle famiglie, ma anche sui ripresti delle imprese, dicono che sono incompatibili con i dati della Banca d'Italia. Il dato però, insomma, che diffonde oggi l'ABI è impressionante, più 82% i mutui erogati. Quindi faccio notare che nel frattempo è uscita anche un'indagine di immobiliare.it che sottolinea come i prezzi, e si riferiva soprattutto agli alloggi degli studenti fuori sede, i prezzi medi siano di 380 euro, si paga fino a 600 euro per una stanza nei studenti fuori sede, e Mirana la più cara seguita da Roma. Ma qui parliamo di affitti, mentre il dato dell'ABI, diffuso oggi, riguarda i mutui erogati in seguito, immaginiamo, a una compravendita o già in corso, o già effettuato, oppure appena realizzata. Un aiuto arriva subito da molti ascoltatori che lavorano in banca, perché a quest'ora spesso ci ascoltano molti bancari, che dicono attenzione, sono una stragrande maggioranza bancari, questo dato è falsato dal fatto che si tratti di surroghe e non di acquisto case, surroghe e portabilità, vedo che tutti scrivete e tutti dite che siete bancari, che lavorate in banca, quindi mi fido, ma soprattutto vorrei capire, perché se il dato fosse così, 26 miliardi e 6 di nuovi mutui e le famiglie, più 82%, dovremmo vedere anche un riscontro. L'ABI dà questa comunicazione, quindi io non posso contestare il comunicato dell'ABI, posso cercare di capire però se questo ha una sua ricaduta e si rispecchia e poi nell'andamento del mercato immobiliare, compravendite e andamento dei prezzi. Ecco perché ringrazio per averci raggiunto in collegamento il dottor Mario Breglia, che è presidente dell'Istituto di Studi e Ricerche Scenari Immobiliari. Buonasera Breglia. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto lei non fa il bancario né lavora all'ABI, però ne compra e vende case e fa l'analista del mercato immobiliare. Però, insomma, il fatto che mi stiano arrivando decenni di sms che dicono che nel caso, a loro testimonianze, in quello che loro vedono, si tratta di surrughe, beh vediamo di fare in maniera empirica di vedere se voi avete notato un tale risveglio del mercato immobiliare da giustificare questo 82% di mutui erogati in più. No, questo sicuramente no. Diciamo, le compravendite nei primi sette mesi dell'anno non sono aumentate più del 5-6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e quindi sicuramente non c'è una correlazione tra mutui e l'incremento dei mutui denunciati e l'incremento del mercato immobiliare. Però sono dei dati strani, posso entrare un attimo, che è 26 miliardi, se si rapportano al totale dell'anno 2015 in cui probabilmente si arriverà a 40 miliardi di mutui significa che su un mercato immobiliare della casa di 80 miliardi siamo in linea con le aspettative, cioè il 50% degli acquisti viene fatto con un mutuo e quindi il dato dei 26 miliardi sarebbe coerente. Non c'è nessuna correlazione invece con gli anni precedenti quando il mercato immobiliare è sempre stato tra i 75 e gli 80 miliardi che nella realtà negli anni precedenti non è che gli italiani hanno comprato e speso e hanno investito 80 miliardi nel comprare case tutto in contanti. Quindi vediamoci ho capito bene. C'è qualcosa che non funziona. Lei dice, siccome il mercato vale 80 miliardi e valeva 80 miliardi anche gli anni scorsi, anche nel 2014-2013 se questo dato porterebbe a dire che a fine anno arriveremo a 40 miliardi di mutui erogati come dire che metà dell'acquisto di questi 80 miliardi è fatto attraverso un mutuo il che ci potrebbe anche stare, se ho ben capito da un punto di vista così astratto. Il problema è che negli anni precedenti a fronte di un mercato che valeva 75-80 miliardi il dato era molto molto più basso quanto a mutui Allora, o ipotizziamo che nel 2014-2013-2012 gli italiani abbiano comprato casa soprattutto in contanti utilizzando i loro risparmi e non usando i mutui o c'è qualcosa che non va. Mi sembra strano che improvvisamente negli anni scorsi tutti abbiano comprato con un tasso due volte superiore. Sì, la surroga dei mutui ne parliamo da tre anni perché da molto tempo l'ABI dice ogni volta che c'è un comunicato stampa che l'erogato dei mutui aumenta ma insomma sarà anche finita questa surroga non è che, insomma, ormai gli ascoltatori che lavorano in banca che ci stanno scrivendo dicono che le surroge, però io le prendo col beneficio del dubbio arrivano al 50% e le banche si sottraggono ai mutui gen estere con la surroga bisogna vedere quanti sono i nuovi e mi stanno arrivando una valanga di sms su questo quindi o c'è un complotto di tutti gli ascoltatori per dire la stessa cosa oppure siccome immagino che siano bancari che lavorano in diverse filiali in diverse parti d'Italia forse vedono tutti i giorni questo però l'ABI parla di nuovi mutui ed è molto preciso il comunicato non dice surro che parla di nuovi mutui quindi o viene fatta un'analisi un pochino più precisa Sì, infatti dice che i mutui a tasso variabile rappresentano nei primi sette mesi il 50% delle nuove erogazioni e quindi sta parlando di nuove erogazioni ma a me, io non vorrei che avesse vabbè, non posso però nei mesi più recenti sono in forte incremento i mutui a tasso fisso che hanno superato a luglio 2015 il 60% delle nuove erogazioni comunque voi dal punto di vista delle compravendite perché insomma un elemento empirico potrebbe essere vediamo se nei primi sette mesi dell'anno rispetto ai primi sette mesi del 2014 c'è un grosso movimento sulle compravendite visto che sono praticamente quasi raddoppiati i mutui alle famiglie da 14 miliardi a 26 miliardi si dovrebbe vedere, non dico un dato analogo insomma, perché qualche surroga ci può ma almeno un forte incremento c'è stato o no nelle compravendite e nei prezzi? i prezzi sono diciamo se va bene stabili come l'anno scorso nella realtà sono leggermente calati le compravendite sono aumentate dicevo tra 5 e 6% in più nei primi sette mesi dell'anno per sei perché ovviamente luglio e agosto non sono mesi diciamo validi in linea poco più dell'anno scorso c'è un leggero, questo è vero un leggero miglioramento nella facilità di accesso al mutuo però anche tenere presente che l'erogato non arriva neppure al 50% del valore della casa che viene comprato quindi è molto basso è più facile oggi avere un mutuo ma sempre se si ha un lavoro a tempo indeterminato se ci sono delle altre garanzie non è cambiato il sistema con cui si danno i mutui c'è un leggero miglioramento nell'erogazione soprattutto le banche piccole o gli istituti che vogliono crearsi un po' di mercato stanno ampliando un po' le proprie fasce di mercato diventando un po' più stabili ma le grandi banche continuano ancora a essere molto fredde non si muovono in modo importante quindi insomma c'è un leggero miglioramento ma sicuramente non c'è una trasformazione epocale come quella che si potrebbe immaginare leggendo questi dati oltretutto lo stesso comunicato parla di un incremento dell'erogato alle imprese del 16% quando la Banca d'Italia tre giorni fa ha parlato di un calo del 2% quello è quello che ha fatto infuriare i consumatori però vuol dire è inutile chiedere all'ABI di smentire un comunicato che ha appena fatto però l'Unione dei Consumatori dice che i dati sono incompatibili con quelli della Banca d'Italia che segnalava i prestiti al settore privato scesi dell'1,8 a gennaio del 2 febbraio dell'1,4 a marzo apri dell'1,2 a maggio dell'1% a giugno e in effetti anche noi abbiamo visto dati un rallentamento del calo alle imprese ma non un aumento dei prestiti alle imprese comunque la cosa importante con lei era capire che voi non vedete nessuno di questi segnali né un aumento diciamo spaventoso delle compravendite né benché meno un aumento dei prezzi che se va bene come le ricordava sono a livello ecco sui prezzi visto che ce lo chiedono gli ascoltatori le dinamiche sono sempre quelle che abbiamo raccontato in questi mesi cioè penalizzati più gli appartamenti in zona diciamo periferica e non centrale e tengono meglio invece le abitazioni di centro e semicentro ma è così tiene sempre il prodotto di qualità non aumentano i prezzi perché in un sistema di deflazione come quello attuale non aumenta il prezzo di nulla non c'è un motivo per cui i prezzi delle case aumentino poi siccome il mercato delle case è fatto da un'offerta di un milione di case sul mercato nel corso di un anno è chiaro che ci sono abitazioni differenti e quindi magari le case in migliori condizioni indipendentemente dalla zona sono vendute a un prezzo un po' più alto ma però nell'insieme i prezzi non salgono né ci si aspetta una risalita nei prossimi mesi allora adesso verificheremo anche lo stock di mutui anno su anno però faccia faccia notare che alcuni fanno notare come appunto essendo la surroga richiede un mutuo sto guardando perché stavate scrivendo così tanto che ho difficoltà anche a guardare sono nuove erogazioni anche le surroghe lo abbiamo detto la surroga è un nuovo mutuo e va bene alcuni altri bancari mi stanno scrivendo che la maggior parte dei mutui vengono richiesti per ristrutturazioni non per acquisti questo potrebbe essere un altro elemento breglia anche se però di solito nelle statistiche ufficiali sono suddivisi i mutui in statistiche dell'ABI ovviamente non è questo comunicato le statistiche ufficiali sono i mutui di rinnovo i mutui per le nuove case e i mutui di ristrutturazione che sono molti in termini di numero però con entità molto basse diciamo che l'appello all'ABI potrebbe essere diteci quanta parte sono surroghe e dateci anche lo stock precedente nel senso che detto così obiettivamente se poi lo pompano anche via agenzia di stampa con appunto boom dei mutui alle famiglie per acquisto di abitazioni perché io adesso sto leggendo di nuovo il comunicato ma l'ABI dice boom di mutui alle famiglie per acquisto di abitazioni per 26,6 miliardi non parla di boom di mutui in maniera generica in cui potrebbero rientrare anche anche le ristrutturazioni grazie intanto a Mario Breglia devo lasciare la linea al meteo e alla pubblicità poi torniamo per la chiusura di borsa a Mario Breglia a Mario Breglia a Mario Breglia Grazie.